Musica Gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo uno sguardo alla situazione prevista per sabato 26 novembre. Un campo barico in aumento garantirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Con apertura di schierite più ampie alternate a residui addensamenti. E vediamo più nel dettaglio che cosa accade in Puglia. Sulla nostra regione, per l'intera giornata schierite alternate a nubi sparse. Ed ecco la situazione per la Basilicata e il Molise. In Basilicata nubi sparse per tutto il giorno, alternate a tempo soleggiato sulle coste e a schierite in montagna. In Molise schierite alternate a nubi sparse, eccetto in montagna il pomeriggio, dove si avrà tempo prevalentemente soleggiato. Infine le previsioni per temperature, venti e mari. Temperature in lieve aumento nei valori massimi diurni. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali, con mari generalmente mossi. Per ora con le nostre previsioni è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.